e ciao ragazzi qui è sabbit e benvenuti in questo in questa primissima partita su call of duty black ops cold war ragazzi dopo tanto tempo rieccoci con un grande code che ora sono uscito dalla seconda partita sono andato un po in positivo negativo diciamo però pensiamo a ad andare avanti perché qualcosa di spettacolare sto cosa ci tengo a dirvelo ho abbassato un po i volumi perché io sono questo qua uccidi tutti gli altri giocatori perfetto allora voi sapete che adotto sempre un delle mie solite tattiche per giocare a code subito detto non è che mi piace stare da solo no no sai quanti ne passano di qua beh subito dai su calma non mi lamento dai pensiamo un po ad andare avanti cerchiamo un po di dare il fuoco di eh però sta mappa è molto dispersiva eh abbiamo una cugi di merda proprio no no non qui cazzo mi vado a glicciare proprio dietro alle cazzate ma qua da come ho capito ci sono le siringhe cosa che erano presenti in call of duty black ops 4 eh se non dico una no eccolo eccolo l'ho visto l'ho visto non andate mai di là eh raga sistema non ho capito che è sta cosa sai qua quanti ne camperano volevi doppia perfetto basta che cerchiamo un po di controllo sempre indietro eh alla fine tutti camperano eh no perfetto eh ho fatto pure headshot ragazzi complimenti sabbit eh complimenti allora occhio io io mi devo imparare a usare sta cosa eh che è la siringa ah ma è tipo la siringa di blackout dai guardala che camper guardalo è camper è come la siringa di blackout adesso ho capito però evitiamo di non mi vorrei mai ritrovare in questa situazione ragazzi in una maniera proprio incredibile andiamo di qua che là è pericoloso oeeh mi è spavolato davanti eh subito come che cazzo usi a fare il cecchino scusa qua andiamo un po' a fuoco ad alleati vorrei capi come funziona no ah no è alleata a me non è che sono disonesto eh ma c'è un'ansia ah no sono quelle torrette ma come cavolo faccio a tenere la siringa scusa uovi di disturbo alleato eh nemico scusatemi ui eh però vorrei capire come si fa la siringa ah eh guardalo t'ho visto guardalo guarda che camper che camper di merda guarda cerchiamo un po' di aspetta fammi lanciare granata vai non so con la siringa come cazzo l'hanno attivata questi occhio stanno qua ehi e che cazzo eh volevo fare un attacco kamikaze ma come cazzo si fa comunque ragazzi per il momento l'unica arma bene è questo KR1GX per il momento tutti vanno a campera qua dentro no la granata ma è volevo usare la granata ma come cazzo come sto andando zero sono penultimo chi è ah cecchino ho visto cercate di coprirmi vi prego dai ma come cazzo come ha fatto scusa ah quella cosa che era pure in Black Ops 3 mi ricordo eh sto andando di merda comunque vabbè dai ragazzi l'importante non mi dovete dare un po' di tempo prima che cominci a prendere a prendere confidenza eh va va quanto odio sti tasti che non vanno allora io vado di qua la siringa io volevo capire la siringa come si mette perché da come ho capito non è che la salute qua ti si rianima nell'aereo ci sono parecchi camper ah una mina che capirai una mina scusatemi ah davvero se mi vedete un po' infacciato ma è la prima partita eh si sono messi l'aspe che l'ho visto zitti zitti ah perfetto non capisco la siringa come la devo mettere scusate se posso essere ripetitivo avevo ancora due minuti queste granate che nervi eh subito perché mi aveva visto adesso mi sto rendendo conto di una cosa ragazzi da quanto è uscito Cold War sono ritornati tutti quanti i peggio camper di merda chi è? alleato perfetto ucciso con la granata abbiamo preso l'aereo ragazzi Ottimus eccola eccoli 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 e volevo ucciderli che cazzo non me ne ho accorto di quello di sotto ah che cazzo volevo fa' per colpa mia per colpa mia però ne ho ucciso uno però guardate ah guardate il lato positivo la miglior giocata viene vista comunque posso dirvi una cosa ragazzi mi sto rendendo conto che sono ritornato tutti i peggio cheater di Black Ops 1 con Cold War ve lo giuro a tutti quanti voi sto aumentando pure di livello ottimo però ve lo ripeto eh con calma mi farò il crea una classe cioè come vi posso dire comincerò a essere un po' più un po' più bravo ed esperto ve lo ripeto mi dovete dare un po' di tempo ragazzi comunque do un mio parere un mio modesto parere sono già di livello 5 non è male ottimo ci tengo a dirvi che mi dovete dare un po' di tempo datemi un po' di tempo posso già crearmi una classe volendo cominciate a dirmi sotto giù nei commenti che classe mi dovrei creare perché vedete Cold War mi sta piacendo la storia mi è piaciuta il multi anche e ora anche lo zombie proveremo ragazzi con calma quindi ragazzi io mi invito a lasciarmi un bel mi piace un commento iscrivetevi è qua da Subbit è tutto e non vi preoccupate che ci saranno video anche su questi e ciao ragazzi